Un buongiorno, Buongiorno, buon martedì, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di mattino 6. Come ogni mattina faremo un salto sulle prime pagine dei giornali, dei quotidiani nazionali e locali che già trovate in edicola per vedere quali sono le notizie principali, ovviamente con il focus sulla nostra regione. E allora io direi di partire subito con i quotidiani di casa nostra, partendo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Questa è quella di l'edizione di Pescara, droga dal mare, spiagge vigilate. Scoperto un altro pacco di 40 chili, ora si teme la corsa allo sballo gratis. E poi la fotonotizia, purtroppo l'Abruzzo brucia, incendi record a luglio, 328 ettari di boschi. Sono andati completamente distrutti. Nelle cronache che vedete sul lato destro, mareggiata a Francavilla, i clienti vengono risarciti, balneatori danneggiati. A Montesilvano invece, pochi vigili e mezzi, la città si sente insicura. E poi via al cantiere, a Rigopiano, i lavori sulla strada del resort. Il resort che è stato purtroppo il teatro di quella immane tragedia che abbiamo vissuto nello scorso gennaio. In basso, si parla di sport ovviamente, Biancazzurri in ritiro, Pescara, neoacquisti in vetrina. Sì perché oggi pomeriggio, come leggete, alle 17 c'era Michevole contro la Virtus Teramo a Rivisondoli. E allora, attesa per tanti volti nuovi, a cominciare dal bomber Simone Andrea Ganza. È arrivato da pochi giorni, proprio con la sua nuova squadra e che oggi potrebbe fare il suo esordio non ufficiale, però con la nuova maglia per testare come l'intesa con i compagni di squadra. Sempre a Pescara, mille persone al provino per il film di Rovazzi. Questa è l'edizione, come detto, di Pescara. Saltiamo su quella, l'edizione del centro, ma di Teramo. Odissea per avere i rimborsi Enel. Questo è il titolo. Neve e blackout, ricorderete i tanti disagi. I soldi devono dargli le ricevitorie della Sisal, che però spesso non li hanno. E questo è, purtroppo, un ulteriore danno, oltre la beffa di aver avuto tanti disagi dal punto di vista della corrente elettrica. A Teramo, in Piazza Garibaldi, siamo nella cronaca, investito sulle strisce, muore dopo un anno. Questa, quella che vedete, è la scena di un incidente dello scorso 5 luglio a Piazza Garibaldi. La vittima, purtroppo, non ce l'ha fatta a distanza di un anno. Sanità, nuovi ospedali, sparisce quello giugliese. Il piano è nella foto, vedete, l'assessore con delega alla sanità, Silvio Paolucci, ovviamente assessore regionale. A Roseto, spiaggiato, un altro pacco di marijuana. E questo è il pacco che vedete ritrovato a Roseto. In basso, il mare ingoia gli ombrelloni. Emergenza erosione a Cologna. E ad Alba Adriatica il sindaco rinvia di un anno i lavori di ripascimento. Per la Lega Pro, visto che siamo sull'edizione di Teramo, allora andiamo in casa biancorossa. Ventola, darò tutto per la maglia del Teramo. Il giovane esterno, proveniente dal settore giovanile, dalla primavera del Pescara, è passato in prestito per quest'anno, dopo l'esperienza maceratese, proprio al Teramo, che si appresta alla nuova stagione e in ritiro con la formazione di Antonino Asta. Andiamo sull'edizione aquilana del centro. Scuole, 80 milioni per la ricostruzione. L'Aquila, il sindaco Biondi, se gli edifici sono troppo vecchi, allora, dice il neo primo cittadino, è meglio abbatterli. Ad Avezzano, anche qui primo consiglio comunale, c'è una nuova giunta anche ad Avezzano, salta la cipollone e c'è la biologa Salvatore. Ovviamente ci sono degli equilibri da mantenere all'interno della formazione della nuova giunta. Sempre ad Avezzano, rimaniamo sempre nella Marsica, nel Fucino, nuovi divieti di irrigazione. E a Sulmona parte la giostra, ha lanciato il bando di sfida. In basso, la Goracci racconta la guerra, l'Aquila e i cantieri dell'immaginario. L'inviata di Rai News a Mosul dice, ho salvato una bambina. Cappadocia, morto roshi, menestrello della storia marsicana. Concludiamo con il centro, nelle sue quattro edizioni, poi ovviamente andremo al messaggero, con l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, con l'edizione teatina. Scuole, tagli a luce, gas e telefoni. La provincia è al verde, niente fondi alle superiori e cinque strade. Tornano all'ANAS. Nelle cronache, come vedete, c'è riproposta la mareggiata a Francavilla, che di fatto è in provincia di Chieti, ma è un ponte anche con la città di Pescara. Allora la notizia viene riproposta sia sull'edizione di Pescara che su quella di Chieti. Cronaca, vasto, si schianta con lo scooter, cinquantenne e in gravi condizioni. Attreglio, inquinamento, condanna per i vecere. Questo è il giudice, Andrea Belli. Caso Liegissi, il pronto soccorso è part time. Di notte, colonine col pulsante SOS in caso di emergenza. E per il basket, Mancinelli, io Chieti e l'amore per Nina Zilli. Adesso andiamo sulle colonne invece del quotidiano Il Messaggero. Ovviamente l'edizione abruzzese. Vediamo il titolo. Abruzzo, la crescita non c'è. La regione perde abitanti più di quanto avvenga nella media italiana e sotto il profilo economico segnala un aumento dei distretti industriali, ma meno che nel resto del paese. Saliamo in alto, incendi come purtroppo accade molto spesso in estate, emergenze in Marsica, Vastese, Valle Subequana e Val Pescara. Ad Avezzano, primo consiglio comunale, De Angelis, vara la giunta. E poi nello sport, Pescara oggi secondo test. E c'è l'accordo con il difensore Ugo Campagnaro. E in basso il Teramo invece ripesca tre purati. Tornano Carraro, Spighi e Barbuti. E poi parla l'imprenditore Fioravanti. Ecco la verità sull'acquisto dell'Aquila. Di spalla, ricorso Abruzzo sulle Trivelle. Abrogata, norma sblocca Italia. La protesta in provincia di Chieti. Viabilità, lira dei sindaci nel Chietino per la condizione delle strade della provincia di Chieti. Ieri molti sindaci, che vedete qui nella foto, hanno protestato davanti al palazzo della provincia. Cronaca. In tre fuggivano con i gioielli bloccati sulla A14. La Polstrada intercetta a Città Sant'Angelo i sospettati di un colpo in una gioielleria a Forlì. All'Aquila, la sorpresa alla Madonna d'Appari, rete di recinzione davanti al santuario. In basso ad Ortona evade per mangiare le salsicce condannato. È una notizia particolare. Lo scorso 4 giugno era uscito di casa per pochi minuti. Il tempo di prendere una salsiccia appena cotta dal suo dirimpettai. Ma al momento di rincasare ha notato una pattuglia ed è stato condannato. E chiudiamo le prime pagine con la prima pagina della città quotidiana della provincia di Teramo. 52 aspiranti primari. 7 posti disponibili in altrettanti reparti della ASL di Teramo. Cardiochirurgia e ortopedia sono gli osservati, i reparti, osservati in maniera speciale. Oncologia, emergenza e nutrizione. Ecco i piani nell'atto aziendale della ASL. Il manager di Giosia spiega le linee della sanità Teramana sul futuro. Poi, nuovo ospedale. Se ne è parlato tanto nei giorni scorsi. La regione si prende gioco del sindaco per i vaccini. Il dottor Petrella davanti all'ordine dei medici. E poi, nella fotonotizia tragedia a Luna Park. Nel mirino i sistemi di sicurezza. Indagata la titolare della giostra mortale. Di spalla entriamo un po' sul territorio costiero. A Roseto degli Abruzzi strisce blu. Tacchetti apre alle modifiche. Sempre a Roseto niente di servizi nonostante i sequestri. A Silvi, ricorso al TAR contro la variante del piano regolatore. E in basso la sperimentazione. Università di Teramo agli esami con l'amico Fido per combattere lo stress. Andiamo adesso sui quotidiani nazionali. Per vedere rapidamente quali sono le notizie principali. Partiamo con il Corriere della Sera che apre con il record dei giovani esclusi. Non studiano né lavorano. I primi in Europa. Facoltà sbagliate e solitudine. Questi sono i fattori principali. E poi per i migranti. Un'emergenza che sta facendo discutere molto l'opinione pubblica ma anche la politica. L'Unicef no al codice ONG. Non vendete gommoni ai libici. Stretta sull'Unione Europea. E poi per la storia. Iara Gambirasio. L'omicidio per Bossetti. Resta l'ergastolo. Andiamo sulla Repubblica. Si parla invece di Jussoli. Alta tensione nel governo. Il PD Alfano chiede modifiche per farsi adattare il provvedimento. MDP ha lui la Golden Share. Rammarico di Mattarella. Visti ai migranti. La UE frena l'Italia. L'Austria. Chiuderemo il Brennero. E poi la fotonotizia. Infiamme la pineta di Castelfusano. Un arresto. Il fumo che si sparge sulla capitale. Ed è l'Italia dei piromani. Roghi alle porte della capitale Roma. E poi una notizia di sport. Visto il successo di Federer. L'ottavo successo a Wimbledon. A 35 anni. Mirka. Ecco il rovescio di Federer. La moglie. E il motore del suo genio. Andiamo al fatto quotidiano. Gentiloni inchiodato alla sedia. Le nomine deve farle tutte lui. Dal Quilinale all'Europa. In ballo. Banca Italia. 007. Nessuno si fida più di Renzi. 25 anni dopo. La strage di Via D'Amelio. A Palermo. 1992. Borsellino denuncia i Giuda. Oggi antimafia UE. Con leggi bucate. E poi il Colle fa grande ufficiale il RAS del tabacco che finanzia Renzi. Onorificenza per il capo della BAT che diede 150 mila euro alla fondazione Open. Andiamo sul giornale adesso per vedere quale è anche in questo caso l'apertura che è dedicata alla questione migranti, immigrati nelle casette e terremotati senza tetto. È uno scandalo accoglienza. Titola il giornale diretto da Alessandro Sallusti. Ai migranti 350 alloggi. Ad Amatrice 1 su 3 invece è ancora accampato. Sulla sinistra guai per gentiloni. C'è un ministro pronto a lasciare. E si parla di un esecutivo che sarebbe agli sgoccioli. A Milano la cronaca accoltella un poliziotto dicendo morirò per Allah. E poi il processo d'appello a Brescia che vi abbiamo detto per l'omicidio di Yara Gambirasio. Bossetti e Argassolo confermato. Ma sono tanti i dubbi ancora che persistono sul omicidio di Yara. E anche sul giornale il record in Italia, la statistica in Italia dei ragazzi inattivi. I giovani non cercano lavoro truffati da ipocrisia e politica. E poi stagione nera per chi si sposta a trasporti. Incubo sul Frecciarossa. Tre ore imprigionati in galleria. E vediamo anche le fiamme su Roma. Fiamme attorno a Roma. Brucia Castelfusano. Scendiamo ancora. Cambiamo un'altra volta giornale. Andiamo sulle colonne dell'avvenire. Per vedere qual è il titolo che ovviamente richiama la questione migranti. Migranti no rischiosi. Dalla maggioranza slittamento dello Ius Culture. La web blocca i visti e l'Austria rialza le barricate. E poi l'editoriale. Questa legge, evidentemente quella sullo Ius Soli che per il momento è stata rimandata dopo l'estate. che scrive Marco Tarquinio, sa da fare le giuste regole, le chiama, del domani comune. Pensioni e nidi, corsa ai bonus, ma c'è il tetto per la previdenza, per l'ape sociale. 66 mila sono le domande. Andiamo al secolo XIX quotidiano di Genova per l'apertura che invece si occupa di politica. Berlusconi, gioco al rilancio. Il piano, Maroni candidato premier e dialogo con Franceschini. L'apertura è tutta dedicata alla politica. E poi invece una notizia di sport. Il nuoto sincronizzato vincente degli italiani sul tema un urlo da Lampedusa. La coppia italiana che ha vinto un oro ai mondiali nel nome dei migranti. Dunque ci sono anche queste notizie che richiamano una tragedia davvero enorme, quella dei migranti, ma viene esportata anche sul piano sportivo per nostra fortuna. perché poi c'è stata anche una prova vincente. In basso il verdetto di appello dopo la lunghissima Camera di Consiglio. Confermato l'ergastolo per Bossetti, per i giudici. Lui l'assassino di Iara Gambirasio. L'ultima disperata difesa è l'errore del secolo. E poi i fatti di Genova, visto che siamo a Genova, G8, i poliziotti condannati ritornano al lavoro. Cambiamo ancora per vedere invece quello che propone il quotidiano Il Tempo. E qui saremo certamente in ambito più capitolino. Il Tempo. Ecco tutti gli scortati con delle auto blu, evidentemente. L'elenco politici, VIP, giornalisti, PM, a quattro anni dalla nostra inchiesta. Nulla è cambiato. Tra auto blindate, scorte e tutele e autisti vari, l'Italia resta il paese che ha più persone protette. E poi si torna sulla sentenza d'appello per Bossetti. Nella notte, qui diciamo, non c'è l'aggiornamento. Il verdetto d'appello, Bossetti spera, ma l'ergastolo è stato confermato. A fuoco, la pineta del Presidente, paura ad ostia, in fiamme la tenuta di Castelfusano, case abbandonate, gente in fuga, preso un piromane. Andiamo al mattino, ovviamente qui siamo a Napoli, lotta ai roghi, campani allo stremo, mancano uomini aerei, l'ira dei sindaci, subito lo stato di emergenza, fiamme anche a Posillipo, il Governatore De Luca chiama il Ministro Pinotti, più militari, ma Berlusconi lo attacca, colpa della sinistra. Scuole chiuse d'estate, il flop dell'istruzione, questo fa parte delle inchieste del mattino, e poi mondiali di nuoto, il sincro e d'oro, con l'omaggio a Lampedusa. Pensioni per i giovani con 20 anni di contributi, l'ipotesi del Governo parte da un minimo di 650 euro, e poi per il calcio Berenguer beffa il Napoli e se ne va al Torino, il procuratore di Carnezi s'annuncia la firma in settimana. Ovviamente spazio soprattutto al mercato del Napoli, ci spostiamo invece in Piemonte adesso, con la stampa quotidiano torinese, Berlusconi il piano contro Lega e Partito Democratico, e il rinvio dello Jussoli rimette al centro della scena il leader di Forza Italia, nuove voci di scissione al Nazareno. Berlusconi guarda Franceschini per fermare Renzi e Maroni, candidato premier anti Salvini. Intervista d'Alfano, nessuna alleanza con i dem, migranti, ultimatum dell'Austria, e poi la metamorfosi di New York, più case, addio negozi, la speculazione caccia lo shopping da Manhattan, e in Italia non va meglio, i centri storici vanno lentamente svuotandosi. Libero, lotta dura contro il turismo, raffica di scioperi nei trasporti, addio vacanze, i cosiddetti lavoratori scatenati per danneggiare l'economia estiva, poi piangono sulla disoccupazione e i bassi salari, la regolamentazione delle astenzioni programmate dai sindacati e una pia illusione. Negata la perizia a Bossetti, all'ergastolo senza prove, pena confermata anche in appello, come vi abbiamo detto. E poi la tratta dei migranti, rende 10 miliardi all'anno, poi alla stazione di Milano come racca, voglio morire per Allah e a coltella un agente. Questo è un fatto di cronaca. Il manifesto, solito titolo molto originale, italieni, si parla della riforma sulla cittadinanza e ovviamente ci sono tante ancora discussioni, ma questo titolo ovviamente è molto molto particolare. Andiamo adesso, rientrando, andiamo adesso sulla rassegna dello sport e ve lo faccio vedere sul nostro tablet, partendo dalla gazzetta dello sport che mette in primo piano maxi scommesse per la Juventus. De Sciglio e Scesni sono i due giocatori acquistati proprio nella giornata di ieri dalla formazione bianconera e che saranno gli eredi di Dani Alves e Buffon. In realtà De Sciglio sarà subito l'erede di Dani Alves, mentre Scesni probabilmente potrebbe aspettare un po' prima che Buffon lascia il calcio. Il terzino pagato 12 milioni ritrova Allegri, che l'aveva scoperto al Milan, e adesso può rilanciarlo per il portiere. 12 milioni più 3 di bonus che vanno all'Arsenal, sempre in calcio. mercato Inter c'è Keita, accordo in vista con il Laziale, sul piatto ci sono 20 milioni di euro. Il senegalese ieri a Milano, Martial potrebbe arrivare in cambio di Perisic, parte l'offerta per Vidal e nel frattempo si tratta Vesino della Sampdoria. Il Milan scatenato, quanti sia Obama e Young, ora fa lo sconto. Il gabonese riduce a 8 milioni e mezzo la richiesta di ingaggio, alle 13.20 sfida amichevoli contro il Borussia Dortmund. L'Ecdi Belotti a Bonucci, Buonaventura noi, dice, saremo tra le prime quattro squadre in Italia. Altre questioni di calcio mercato, come avete visto, colpo del Torino che ha soffiato Berenguer al Napoli, l'esterno spagnolo arriva dall'Ossasuna, scelta, dice, l'opzione migliore. Poi la nuova vita di Francesco Torino, Fotti, che è diventato manager, dirigente della Roma. L'ex capitano a Trigoria accoglie il nuovo acquisto Under e dice, Roma ti darò una seconda vita. In basso, Minisini Flamini, l'oro del sincro, dedicato ai migranti, protagonisti ai mondiali di nuoto. li vedete proprio sul gradino, più alto del podio. Tennis, lezione Federer, è un consiglio anche ai giovani, ci vuole coraggio. Tutte le parole dello svizzero che arrivano a ridosso della vittoria, della ottava vittoria nel circuito di Wimbledon, in uno degli slam più belli, più affascinanti che ci siano al mondo. Questo per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. Torniamo adesso sul Corriere dello Sport e torniamo allora sul su quest'altro dispositivo per vedere quella che è la fotonotizia centrale, ovvero il testa testa da una parte c'è Allegri, da una parte Maurizio Sarri, una giuria di esperti che dice è il Napoli, la vera anti-Juventus, questo è il sondaggio del Corriere dello Sport, Allegri e Sarri davanti, poi Milan, Roma e Inter, due colpi dei bianconeri, come detto Cesni e De Sciglio. In alto, sul Sipario scopriamo il nuovo Milan, c'è subito la sfida a quello che è un sogno di mercato, Pierre-Emerick Aubameyang riparte il grande calcio, scatta la Champions Cup con 15 top club, il test Borussia Dortmund per Montella, in basso Keita all'Inter, ora si può fare l'offerta più alta, convince Lotito, e poi Neymar Shock addirittura, il PSG prepara 200 milioni per portarlo via e poi la bella notizia del sincro azzurro è oro storico Flamini Minisini è una coppia davvero mondiale. Tutto sport finalmente e qui ci sono tre tre giocatori, un portiere e due giocatori che da ieri raggiungono le squadre torinesi ovvero De Sciglio e Scesni la Juventus e Berenguer il Toro e infatti vedete De Sciglio Scesni e Berenguer con l'etichetta preso 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 altri movimenti di mercato Inter ecco Keita ma Spalletti chiede altri colpi a Zhang il Milan contatto per Aubameyang oggi test con il Borussia Dortmund la Roma Totti dirigente per fare un grande club dall'altra parte l'estero il PSG ci prova con Neymar Danilo Vola da Conte e poi una storia particolare Zaccardo che è stato campione del mondo nel 2006 con l'Italia che si offre su LinkedIn e dice sono un ottimo affare queste erano le prime pagine nazionali e locali di questa mattina adesso spazio alle previsioni del meteo poi pubblicità rientriamo e entreremo all'interno dei giornali di casa nostra seconda parte di mattino 6 adesso siamo pronti per sfogliare un po' i giornali abruzzesi per vedere quali sono le notizie principali partiamo con il centro e con purtroppo una notizia che si ripete ogni estate ovvero l'Abruzzo che brucia record di incendi c'è stato nel 2017 15 roghi pensate al giorno dall'inizio di luglio sono stati 250 già distrutti 328 ettari di bosco valle Roveto a Terno e dentro terra del Terramano che sono le zone più devastate e vedete anche la flotta antincendio boschivo ovvero i mezzi che sono a disposizione per bloccare per fermare quanto è possibile gli incendi questi sono del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile per il codice penale l'incendio doloso è punito con 10 anni di carcere quando il loro rogo è colposo la condanna massima invece è di 5 anni vediamo anche l'analisi su questa situazione quest'anno per difenderci si spende molto di più ogni giorno in Abruzzo in campo 50 vigili del fuoco una decina di funzionari dosse oltre 100 volontari della protezione civile all'appello mancano però i forestali accorpati ai carabinieri che non spengono più incendi ma si occupano di indagini sui roghi ma non è una vera spending review come leggete la regione dovrà pagare 460 mila euro contro i 390 mila del 2016 acerbo lancia accuse e poi questo focus sul profilo del piromane chi è stato un'intervista chi è stato uno psichiatra abruzzese di Gian Antonio il piromane non prova mai sensi di colpa è un malato distruttivo che non si controlla chi si nasconde dietro i roghi danno fuoco per speculazione ignoranza oppure malattia in basso ma nel vastese il fuoco è vendetta auto camping e palestre bruciate in 12 anni 180 i roghi quasi tutti impuniti andiamo un po' avanti perché qui si passa le pagine della politica nazionale allora ci interessa relativamente anche perché le abbiamo viste sui quotidiani nazionali e allora andiamo a casa nostra a Pescara stupefacenti dall'Albania un altro pacco di droga in spiaggia pattuglie per evitare i saccheggi trovati 40 chili a Roseto dopo i due quintali di marijuana arrivati sulla costa pescarese e teramana per i carabinieri potrebbe trattarsi di un unico carico ma ora si teme la caccia allo sballo gratis sull'altra pagina materassi mutande e rifiuti ecco le aiuole dei bivacchi dopo i servizi denuncia del centro si scatenano le segnalazioni dei cittadini dalla strada parco a via Fabrizi tutte le aree verdi trasformate in discariche e vedete le foto che raccontano questi problemi il comune annuncia i lavori per 22 parchi pronti 230 mila euro per gli interventi nelle aree verdi già aperti già aperto il primo cantiere a Villa De Renzis sempre a Pescara il comune dimentica 150 mila euro per la costa saltano i lavori di ripascimento a Porta Nuova i balneatori costretti al fai da te Padovano utilizzeremo i soldi per realizzare una scogliera a difesa del litorale e poi il sindaco revoca lo stop alla balneazione di vieti scattati venerdì scorso dopo che c'è stata una giornata di pioggia nell'ex stazione 5 mila parcheggi Confcommercio critica il progetto per l'area di risulta servono altri posti auto sempre a Pescara ambulanze senza medico l'ASL dice tutto sotto controllo interrogazione alla regione di Sospiri malà e Febo malati trasportati senza assistenza minacciato un esposto in procura Mancini gli autisti sono anche soccorritori Forza Italia adesso invece accusa parliamo di sempre dell'opposizione di centrodestra accusa la maggioranza se questi delle bici l'aula non vota l'annullamento andiamo a Montesilvano adesso ultimatum al comune mancano i vigili per controllare la città il sindacato della FPCGL lancia l'allarme personale carente e poche attrezzature siamo pronti a far partire la protesta e poi MDP articolo 1 incontri per la politica a Montesilvano e Pescara inaugurata la sede in via Martiri di Ungheria a centro pagina sempre a Montesilvano Armellani nuovo presidente Lions al promenade il passaggio del martelletto con l'uscente crocetta e poi ecco i ballerini di Ballando sotto le stelle domani al curvone Raimondo Todaro Vera Chinunen Stefano Oradei giurati per le scuole di ballo a Francavilla mareggiata la notizia che abbiamo trovato in apertura i balneatori costretti a risarcire i clienti a Francavilla prime frile di ombrelloni nell'acqua negli stabilimenti vicini a Pescara colpa di regione e comuni i lavori sulla spiaggia effettuati troppo tardi sempre a Francavilla entro due giorni decisione sul vincolo per Palazzo Sirena Aspoltore Alvia Giochi sotto le stelle in memoria di Gabriele da giovedì l'evento dedicato al 17enne purtroppo ucciso dall'eucemia e poi a Rigopiano tra un po' vedremo anche un eservizio che ricorda i sei mesi della tragedia del resort di Rigopiano lavori sulla strada del resort sei mesi dalla tragedia la provincia avvia il cantiere con l'obiettivo di far riaprire il tratto verso Vado di Sole lavori che come leggiamo nell'apertura cominciano oggi per la sistemazione da parte della provincia di Pescara del tratto stradale Rigopiano Vado di Sole e allora come avete letto sono sei mesi dalla tragedia di Rigopiano e allora andiamoci a vedere questo servizio Gianluca Tanda siamo a sei mesi dalla tragedia di Rigopiano oggi tutti riuniti che sono proprio sul luogo ancora per ricordare ma per non far cadere l'attenzione siamo qui per ricordare per non far cadere l'attenzione per commemorare per avere delle testimonianze delle altre associazioni che hanno avuto la nostra stessa disgrazia perché poi sono tutte le disgrazie che perdere i figli perdere i fratelli perdere i genitori sono disgrazie che anche se cambia lo scenario il sentimento è sempre lo stesso questo non ci facciamo capace perché non si può non si può morire di lavoro non si può morire per un giorno di vacanza non si possono interrompere i sogni di ragazzi di ragazzi che sognavano le cose che sogniamo tutti i ragazzi purtroppo l'abbiamo infatti per una una mano sbagliata insieme all'associazione nazionale che siamo stati gli ultimi ad entrare all'interno speriamo che rimaniamo tali è proprio quello vogliamo cambiare il sistema giudiziario affinché queste tragedie non succedano mai più gli incidenti possono capitare ma queste sono tragedie che tanti di noi possono dire stragi vogliamo dedicare un po' di canzoni ai nostri cari ai nostri cari e abbiamo deciso di iniziare proprio con Alessandro Alessandro Cavallucci che tutti ricorderanno era il musicista dell'albergo perché per nove anni è stato su con tutti i ragazzi e suonava queste canzoni l'abbiamo voluto fortemente vogliamo chiudere gli occhi e immaginare che è ancora lì quell'albergo ancora la sua musica cheggia nelle varie stanze dell'albergo Andiamo a Chieti adesso rimanendo sempre sul quotidiano Il Centro allarme incendi a Vasto la riserva brucia è un cane usato come innesco il terribile sospetto nel nuovo rogo scoppiato a Punta Derci danni alla vegetazione e alla fauna dell'area protetta Per la cronaca auto contro scooter grave un cinquantenne incidente a Sant'Antonio commerciante vedovo da pochi giorni trasportato in elicottero a Pescara inquinamento condanna per i vecere a a Treglio a comune cittadini e associazioni il primo round della battaglia contro Sanzificio e Biomasse ci spostiamo all'Aquila adesso anzi in provincia dell'Aquila perché siamo a Sulmona la rievocazione storica ha lanciato il bando di sfida via la giostra circa 2000 i volontari che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione che coinvolge borghi e sentieri incendio a Molina a Terno il fuoco divora 10 ettari di bosco gli abitanti accorsi in massa per domare le fiamme irrigazione del fucino arrivano altri divieti emergenza siccità accordo tra i sindaci e il consorzio di bonifica stop nei weekend e di giorno e poi ad Avezzano ufficializzato l'esecutivo salta la figlia di Cipollone in giunta Salvatore Cosimadi presidente del consiglio ma di Pangrazio non si arrende e andiamo a Teramo prima di cambiare quotidiano odissea tra le ricevitorie per avere il rimborso Enel ricordate la nevicata epocale gli strascichi questi sono i clienti possono ritirare i soldi sì ma solo nei punti sisal che spesso però ne sono sprovvisti danni in arrivo solo 120 milioni l'Abruzzo ne ha chiesti 800 D'Alfonso ai sindaci coperte le somme urgenze e poi la senatrice Blundo che dice alla sicurezza dell'acqua i finanziamenti per le autostrade A24 e A25 almeno una parte cronaca investito sulle strisce muore dopo un anno l'anziano fu travolto all'imbocco di Piazza Garibaldi il 5 luglio 2016 la procura dispone l'autopsia cambiamo adesso quotidiano prima di andare sullo sport in entrambi i quotidiani per vedere quella che è l'apertura la la prima la pagina Abruzzo del messaggero l'Abruzzo si spopola più di quanto avvenga nella media italiana per il terzo anno consecutivo si segnala un decremento demografico aumenta solo la popolazione dell'area metropolitana Chieti-Pescara questo è lo studio che è stato effettuato economia la regione è in crescita ma meno che nel resto del paese più 3,3% dei distretti industriali ma inferiore al complesso dei distretti italiani che crescono invece di quasi il doppio il 6,4% a Pescara casa dello studente sarà pronta ottobre ultimi ritocchi sulla struttura dell'Ateneo d'Annunzio che vedete in foto completata con annessa a Salamenza in via Benedetto Croce è la prima residenza universitaria pubblica della regione un altro edificio vicino sarà dedicato alle attività culturali mare pulito il sindaco Alessandrini revoca i divieti parte il sondaggio sulla strada parking passato il non bifraggio l'arta riscontra valori nella norma scontro in consiglio su multe e sequestri alle bici sulla riviera cronaca in fuga con i gioielli bloccati sulla A14 la polizia autostradale ha intercettato a Città Sant'Angelo tre banditi sospettati del colpo in una gioielleria vicino Forlina e la vettura preziosa di un valore di 50 mila euro denunciati per ricettazione si indaga adesso sul furto e si legge notte movimentata per gli agenti coordinati dall'ispettore superiore Sabatino Pulcini mezz'ora prima un'altra pattuglia aveva inseguito fino alla torre di Cerrano un'auto che era fuggita all'alt Daniele Toto in tribunale per l'accusa di banca rotta e poi sotto analisi quintali di marijuana in spiaggia casting di tutti i colori per Rovazzi la selezione di extracomunitari ha richiamato all'aurum a Peschiara una folla di aspiranti attori africani orientali e dell'est europeo tanti anche gli abruzzesi con storie di vita ambizioni e sogni stella otto anni alle idee chiare voglio solo conoscere Fabio il fiume la memoria apre stasera con Luigi De Gregori la rassegna e poi sempre per gli eventi il festival Bus in Jets nel nome di Borsellino all'Aquila spese la scure dell'assessore l'obiettivo è ridurre le tasse entro il 31 luglio bisognerà approvare il piano di assestamento del bilancio la di Stefano sta vagliando le richieste e bisogna garantire i servizi essenziali e il sindaco vediamo la foto del neosindaco Pierluigi Biondi l'assessore che dice d'accordo con il sindaco decideremo la linea vogliamo arrivare ad abbassare i tributi equilibrando entrate e uscite Carrefour reintegrata la dipendente licenziata esulta la CGL Gran Sasso acqua gli aspiranti alla successione di Di Benedetto per la nomina Cronaca spaccia davanti ai carabinieri arrestato l'operazione un giovane di 34 anni condannato a 8 mesi e subito rimesso in libertà Fontari nuove prescrizioni del parco vertice oggi negli uffici del sindaco Pierluigi Biondi Cordeschi dovremmo capire se sarà possibile bypassarle nel frattempo nella giornata di ieri sono arrivati i primi materiali per l'allestimento del cantiere per i lavori e la protesta rete di metallo alla Madonna da pari gli usi civili gridano allo scempio Avezzano De Angelis si insedia ecco la nuova giunta vice sindaco Cipollone rientra l'assessore Crescenzo Presutti Felicia Mazzocchi al bilancio Cati Alfonsi e Gatti le novità qualche nuovo entrato e un paio di volti non notissimi ma il gruppo dell'ex sindaco di Pangrazio abbandona l'Aquila nella Marsica incendi ovunque distrutto un capannone protesta no snam a Sulmona tutti assolti dal giudice di pace e poi per la cronaca da Avezzano depredava la scuola materna è stato arrestato tra le varie cose purtroppo che bruciano anche il parco Sirente Velino le fiamme ieri mattina il sindaco Fasciani forestale soppressa è stato un errore per la questione Santa Croce Lolli indagato per diffamazione il vicepresidente della regione Abruzzo e arriviamo alla pagina di Chieti strade a pezzi l'ira dei sindaci ora dateci i soldi delle tasse la proposta manutenzione fatta dai comuni con i proventi dell'imposta sulle auto e sui rifiuti frane e crepe arterie prossime alla chiusura a rischio di delocalizzazione anche per molte fabbriche qui vedete la protesta dei sindaci allora noi ci andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato oggi c'è questa protesta qui a Chieti dinanzi la provincia protestate per lo stato delle strade per la mancanza di fondi proprio per mettere a posto queste strade provinciali soprattutto nella zona del Vastese in realtà il presidente Fupillo ci ha quasi anticipato perché noi avevamo programmato di stare qui proprio per chiedere attenzione al nostro circuito viario che è ridotto in condizioni veramente indescrivibili però lui ci ha preceduto praticamente dicendoci che non ha più alcuna possibilità di movimento non farà nessun tipo di investimento non solo sulle strade addirittura neppure sulle scuole io vorrei ricordare che San Salvo ha un istituto superiore di tutto rispetto che aspetta di essere completato nei suoi due piani oramai da oltre cinque anni la nostra protesta a questo punto si trasforma non più come una forma di attenzione da parte della provincia ma a questo punto del governo il Presidente si deve dimettere deve riconsegnare la fascia insieme a tutto il Consiglio Provinciale perché forse solo così il governo centrale capisce che questa provincia ha necessità di fondi per essere messa in sicurezza non parliamo di decoro magari parliamo di sicurezza abbiamo un'arteria nella nostra città che è molto importante dall'uscita dell'autostrada San Salvo Sud fino all'ingresso della nostra città è veramente fatiscente pericolosa ribadendo che noi siamo in quella strada cercano parecchie veicoli per tutto il nostro magnifico agglomerato industriale quindi bisogna assolutamente metterla a posto qui bisogna rimettere un pochino la palla al centro e far sì che l'attività amministrativa sia destinata alle persone persone che purtroppo vengono private ogni giorno di servizi vitali allora occorre riflettere e dire uno Stato come l'Italia può permettersi di continuare ad investire 5 miliardi l'anno per ospitare i migranti e abbandonare i cittadini allora noi quello che chiediamo oramai da tanto tempo e cercare di stornare da questi 5 miliardi di euro una parte per tornare ad investire attraverso un piano Marshall sulle strade sulle infrastrutture e soprattutto sull'erogazione dei servizi in generale a favore degli italiani andiamo a Lanciano adesso Sansificio condanna per i vecere il giudice Belli infligge 8 mesi ad Antonio e 6 ad Enrico pena poi commutata in due multe di 60 mila e 40 mila euro la sentenza chiude la battaglia di un intero comprensorio nella zona di Treglio il sindaco Berghella dice è una vittoria epocale con 6 mila firme i residenti contestavano all'azienda di produrre inquinamento ad Ortona invece evasione a caro prezzo un anno e due mesi di carcere per questa oramai famosissima salsiccia vasto roghi dolosi e carenza d'acqua è davvero emergenza Castiglione ordina pulizie anti incendi l'iniziativa a tutela di igiene e decoro serve a fare prevenzione a Teramo guerra del teatro ultimatum la politica deve restare fuori il sindaco Brucchi minaccia di rescindere subito il nuovo contratto Manola Di Pasquale situazione paradossale la colpa è del comune e in provincia di Teramo industria in ripresa grazie soprattutto all'apporto delle donne per la politica attenzione nel PD a Teramo Bartolini capogruppo Verna lascia Conti in rosso sempre a Teramo ma gli scuolabus non si toccano e poi De Paulis nuovo leader dei giovani imprenditori Gian Maria De Paulis per Giulianova Assessore Paolucci basta prese in giro duro l'affondo del sindaco Francesco Mastromauro dopo l'annuncio del delegato regionale alla sanità che ha escluso di nuovo Giulianova il governatore D'Alfonso aveva affermato che invece i soldi c'erano e dai tempi di chiodi che stiamo lottando sempre a Giulianova stelle e sogni successi dell'estate in piazza a Roseto Guaglione e Resinaro sbancono il festival ad Alba Adriatica vietato giocare a calcio nella villa comunale a Tortoreto riaperto il ponte di legno del Salinello apriamo la pagina dello sport adesso io scommetto su Mancuso parla l'ex allenatore del Pescara Ivo Iaconi l'ho allenato a Carrara forse allora non era maturo ma il suo talento era già da serie B Zeman è una garanzia tra i cadetti le idee degli allenatori possono fare ancora la differenza e le sue ovvero le idee di Zeman non invecchiano mai ok per Campagnaro nelle visite manca solo la firma al prolungamento del rapporto tra il difensore argentino e la formazione Bianca Azzurra in serie D fiora avanti ecco la verità sull'acquisto dell'Aquila rileveremo il 60 o 70% ci saranno 4 soci non abbiamo cambiato le condizioni vogliamo chiudere entro fine mese in Lega Pro adesso Teramo all'orizzonte ecco altri tre ritorni dopo Petrella anche Barbuti Spighi e Carraro tornano a disposizione di Antonino Asta intanto Paolucci si candida ora sono maturato sono certo che saprò farmi valere in serie D campagne abbonamenti Lavastese scende in pista il 3 agosto amichevole col Benevento nel mercato si aspetta Ettore Padovani il ciclismo Sciotti Vini Fantini il progetto va avanti dopo il Matteotti sponsorizzazione rinnovata per altri due anni chiedi il futuro nasce dal circolo del basket sapete tutti dei problemi del basket teatino l'associazione vuole dare sostegno a chi farà attività cestistica e poi per il calcio a 5 oggi è una giornata importante perché oggi c'è la sentenza d'appello per la squalifica di Canal giocatore del Pescara risultato positivo nel 2016 ha piedato per 4 anni cambiamo adesso giornale cambiamo quotidiano per tornare sulle colonne del centro ovviamente per parlare di Pescara Zeman mette i metri nei nuovi acquisti alle 17 seconda amichevole precampionato a rivisondoli contro la Virtus Teramo martedì finirà la prima fase del ritiro e dal 29 luglio al 5 agosto la squadra cambierà location ovvero andrà a Palena tecnico spera che la società riesca a scremare un gruppo davvero molto ampio c'è attesa per il debutto dell'ex veronese ovvero Simone Andrea Ganz che si cambia a diventare il bomber del Delfino Campagnaro con la squadra a Palena visite mediche ok per l'argentino che inizierà a lavorare con i compagni il prossimo 29 luglio e qui vedete anche il diario del Pescara oggi ovviamente Pescara Virtus Teramo a rivisondoli alle ore 17 seconda amichevole per i biancazzurri di Zeman Teramo la grinta di ventola Teramo darò tutto per questa maglia parla il terzino reduce da un buon torneo con la maceratese la società ha puntato su di me e ora devo ricambiare la fiducia nel frattempo Baccolo il centrocampista a rescisso per ora nessun fuori rosa verrà reintegrato Vastese presentata la campagna abbonamenti serie D da 60 a 250 euro ecco quanto costa andare allo stadio il patron Bolami prezzi ridotti l'Aquila entro 48 ore la cessione della società rosso-blu in serie di Lavezano tratta Lombardi pallacanestro chiede il sogno NBA e il mio amore per la Zilli si racconta Stefano Mancinelli orgoglioso di essere teatino vi svelo la storia con Nina l'ex capitano dell'Italia ho rifiutato di andare negli Stati Uniti per rimanere al top in Europa ma non sono pentito e mi dispiace ovviamente non potrebbe essere altrimenti per il basket chiedino contento e di buonaventura a un passo andiamo in casa Roseto che aspetta le firme dei due italiani prima di prendere gli americani quello che vedete nella foto il coach Emanuele Di Paolo Antonio coach del Roseto parliamo anche di pallavolo si è coinpavida ecco Sitti giovedì il nuovo calendario in A2 lo schiacciatore di tollo torna a Ortona sono di nuovo a casa dopo domani a Bologna verrà svelato il cammino serie B Pineto Blinda Fortuna in basso per la palla nuoto campionato master agrodolce per il club acquatico Pescara beach volley a basso scattano i campionati italiani under 19 e 21 parco di Roma campionato under 14 si mette in vetrina al circolo golf di Miglianico cambiamo adesso per vedere per intero invece il quotidiano la città quotidiano della provincia di Teramo che apre con la sanità la ASL del futuro affronterà le emergenze nell'atto aziendale il polo oncologico la crisi idrica e le emergenze la nuova sanità del territorio e della nutrizione poi per il caso vaccini Petrella convocato dall'ordine dei medici giovedì l'audizione del ginecologo contrario alla vaccinazione per il papilloma virus sempre per la sanità nuovi primari negli ospedali ecco tutti i nomi dei candidati arrivati 52 curricula per 7 reparti ospedalieri ortopedia e cardiocrirurgia sotto la lente ed ingrandimento Università di Teramo all'esame con gli amici animali l'Ateneo per primo in Italia sperimenta la pet therapy in aula per ridurre lo stress agli studenti viabilità cappotta sulla Teramo mare un chilometro di coda iniziata la guerra del cineteatro comunale esposto di due consiglieri ad appalto assegnato e gestione avviata il comune di Teramo chiede conto dei titoli all'ACS solidarietà al libraio aggredito lungo il corso schiaffo ed intimidazione sortiscono l'effetto opposto gara social per stigmatizzare l'episodio violento capitato sabato scorso il cantiere nessuna nuova sulle pietre di Corso San Giorgio al sopralluogo per la verifica dei materiali partecipa solo il direttore dei lavori i danni dei cinghiali si continua a litigare senza risolvere i problemi la col diretti ritira i suoi rappresentanti dagli ATC Teramani in segno di protesta contro le associazioni e la regione vandali nella sede degli Alpini a Isola del Gran Sasso decapitata l'Aquila della Fontana indagata la titolare della giostra mortale a San Benedetto nominata una commissione tecnica per i controlli sullo slime shot l'autopsia sarà affidata oggi dalla procura di Ascoli al medico Teramano Giuseppe Sciarra a Nereto un polo scolastico e culturale nell'area del Romeo Menti incendi invibrata i vigili del fuoco salvano un frutteto pompieri impegnati lungo la bonifica del Tronte a Sant'Eurosia di Civitella nuovo ospedale a Giulianova però la regione si prende gioco del sindaco Mastromauro furioso dopo l'annuncio dell'accordo sui nuovi ospedali che esclude ancora una volta la sua città definisce inaccettabile l'esclusione cozza contro la delibera della giunta regionale che conferma la realizzazione del nuovo ospedale Giuliese sempre a Giulianova la fontana di Piazza della Libertà è senza acqua da più di due mesi inchiesta della finanza nessun disservizio nonostante i sequestri ci troviamo a Rosetto le rassicurazioni dell'assessore Patrini per i rifiuti delle spazzatrici trovata la soluzione del consorzio AM per il momento gli indagati risultano indagati solo il sindaco Sabatino Di Girolamo il dirigente Marco Scorrano ed Ercole Diodoro ad Atri il PD Bacchetta e il sindaco Astolfi sulla cultura caos parcheggi torniamo a Rosetto pronti a valutare il vice sindaco eventuali modifiche alle strisce blu secondo Tacchetti e assessore comunale ai lavori pubblici la situazione si starebbe normalizzando Silvi ricorso al TAR contro la variante al PRG presentato lunedì scorso da Lega Ambiente contro l'atto dell'ex amministrazione comunale di Francesco Comignani le reazioni al ricorso Giovanni Rocchio l'ultimo atto di una politica di basso livello per la cronaca le maleggiate portano pacchi di droga sulle spiagge Silvia Rosetto ritrovamento da parte dei bagnanti che hanno avvisato i carabinieri Cultura Patruno ecco le parole ritrovante il romanzo perduto dei ragazzi del 77 nel libro di interviste a Moravia ed altri maestri e concludiamo con lo sport Teramo ora tornano di moda gli esodati Barbuti Spighi e Carraro in Lizza per tornare in gruppo c'è la possibilità che il loro rientro sarà condizionato vertice ieri pomeriggio nel ritiro di Alfedena c'erano anche due direttori Asta vuole capire se ci sia la possibilità di valutare quelli che adesso sono ancora esiliati il Teramo sembra intenzionato a dire di sì e concludiamo con questa notizia che riguarda il tennis club di Roseto che festeggia i 30 anni e nel torneo che ha fatto da cornice a questo trentennale il romano Marco Mosciatti ha vinto la finale del torneo nazionale Open a cui hanno partecipato 200 giocatori bene questa era l'ultima notizia per Mattino 6 che torna domani puntuale alle ore 8 alle ore 14 vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG6 con le notizie più importanti della giornata è tutto buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti